Anche oggi il Signore piange davanti a un cuore chiuso, come ha pianto per Gerusalemme e il suo popolo, serrato nelle certezze e nella tranquillità apparente. Così oggi Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, di cui l'invito a lasciarsi convertire ogni giorno dal Signore ad accogliere la sua gioia e le sue sorprese. Io mi domando oggi noi cristiani, che conosciamo la fede, il catechismo, che andiamo a messa tutte le domeniche, noi cristiani, noi pastori, siamo contenti di noi perché abbiamo tutto sistemato e non abbiamo bisogno di nuove visite del Signore. Il Signore continua a bussare la porta di ognuno di noi, della sua Chiesa, dei pastori, non si apre. Il Signore piange anche oggi.